Quella che vi raccontiamo oggi è una storia particolare. Vedete questo diploma della signora Maria Teresa Polito firmato dal Presidente della Commissione il 30 settembre del 1962, però è stato ritirato solo oggi Enrico. Come mai? Innanzitutto lo diciamo, questo è il diploma di ragioniere perito commerciale della tua mamma. Oggi io e mio fratello siamo molto emozionati per il ritiro del diploma della mia mamma. Che è successo? Che mia mamma si è allettata da qualche mese e il suo desiderio era quello di ritirare il diploma e con la collaborazione dell'Istituto Mattei ci siamo riusciti. Io penso che oggi per mia mamma si chiude un cerchio della sua vita. Posso chiederti come mai alla fine tua mamma questo diploma dal 1962 non l'aveva mai ritirato? Questo non lo volevo dire ma te lo dico. Mia mamma, il nonno gli ha dato i soldi e mia mamma con quei soldini ha dato scoprire qualcosa per lei e non ha ritirato il diploma. Poi sono nati i figli, il lavoro, la famiglia. Ci sono state altre priorità. Anche priorità più importanti e non ha ritirato il diploma. Oggi l'abbiamo ritirato. Eccolo qua e lo vediamo. Il diploma dell'epoca non è un effetto anticato, è proprio il diploma originale del 1962. Beh, dobbiamo dire sicuramente grazie a tutti quelli che hanno lavorato per il Mattei in questi anni e che lo hanno conservato anche perché non si trovava qui a Casamicciola quando l'ha frequentato la tua mamma. Perché mi diceva la mamma che all'epoca le scuole stavano a Ischia e se ricordo bene presso l'Hotel Diana, l'attuale Hotel Diana. A Via Roma. A Via Roma, sì, a Via Roma a Ischia. Poi hanno trasferito tutto qui a Casamicciola. E questo è l'ultimo diploma di quel corso. E volevo precisare che il primo corso di 61-62 del diploma dei ragionieri di Ischia, erano una ventina di loro. E questo è l'ultimo e che la storia della signora Maria Teresa Polito, beh, le porterà i nostri saluti. Sì, le porterà i saluti. E metterò questo diploma nel mio ricevimento dell'albergo dove mia mamma ha lavorato per tanti anni e ha insegnato tante cose a me e a mio fratello Dino.